Salve ragazze, questo è un video in cui vi mostro l'applicazione del nuovo fondotinta Wet n Wild Photofocus e in più l'applicazione del correttore, sempre della Wet n Wild, sempre della linea Photofocus. Nel video mi vedrete specialmente all'inizio senza alcun trucco sul viso, quindi senza mascara, senza sopracciglia, riempite, quindi non vi spaventate. Però è bene che lo vediate perché riuscite a rendervi conto della coprenza di questo fondotinta sui miei rossori. Spero possa esservi utile se state valutando l'acquisto di questo fondotinta. Un bacione. Oggi voglio mostrarvi la coprenza e l'applicazione del fondotinta Wet n Wild Photofocus. Lo riapplico solo nei punti un po' più rossi, perché ho la copre rossa, perché non lo sapesse. Copro anche le occhiaie con il correttore, sempre della Wet n Wild Medium Beach, sempre della linea Photofocus. E questo è il risultato finito con questo fondotinta. Spero che si possa notare la differenza tra il prima e il dopo. Ma al che vada vi metto un breve video del prima anche qui nel video. Spero che si possa notare l'acquisto di questo fondotinta.